Pazzatura speciale Alec Walsh. Robert parcheggiò di fianco alla Mustang rossa, scavalcò la recinzione e andò a pestare sull'ingresso della villetta con la mano libera. Nell'altra reggeva una mazza da baseball. Sentì avvicinarsi dei passi. Chi è? chiese una voce femminile da dietro la porta. Fammi entrare, Anne, so che è lì dentro, gridò. Vattene, Bobby, ci sono solo io qui. Fammi entrare, ho detto, so che è lì, ringhiò Robert. Vattene, oggi non ti voglio vedere. Sei nuda? Con lui? Apri! Immaginare che quel bastardo, se la fosse già fatta, lo fece ribullire ancora più dalla rabbia. No, rispose la voce tremando, ho le mie cose, mi sento orribile, non voglio che tu mi veda. Stronzate, lo sai, è lì con te, c'è la sua macchina parcheggiata qui di fronte, gridò agitando nell'aria la mazza. Non c'è nessuno, fammi entrare. No, mi sento brutta. Cazzate, apri. No, sono impresentabile. Anne, disse lui con forzata lentezza, o mi fai entrare con le buone o entro da solo sfasciando finestra, capito? Ma non c'è nessuno, piagnucolò lei. Fammi entrare! Il silenzio regnò per qualche istante, poi udì la chiave girare nella toppa. La porta lentamente si aprì. Robert avanzò riso, mazza pronta, la mente buttata al massacro. E poi la vide, e un'espressione sorpresa gli si congelò sul volto. Anne, illuminata dalla luce fredda della luna piena, brutta come aveva detto di essere. Guardò meglio, e vide le strane pupille di lei, e quei capelli sibilanti che sembravano agitarsi come un mazzo di serpi. Lo stupore sul volto gli si pietrificò, e non solo quello. Anne sbuffò. Due nella stessa notte non le era mai capitato. Cominciò a spingere la statua di Robert dentro casa, in vento contro la luna piena, la maledizione che l'affliggeva e la speciale spazzatura che le procurava.